Rendere tutta l'Italia un'unica zona arancione è quanto chiesto al governo in Friuli Venezia Giulia insieme a Lombardia e Campania. Il presidente Massimiliano Fedriga, insieme ad Attilio Fontana e Vincenzo De Luca, ha chiesto una linea di prudenza uguale per tutta la penisola, eventualmente con ulteriori strette in caso di peggioramento dei dati. Le nuove misure presentate oggi dal governo alle regioni per il nuovo DPCM, che entrerà in vigore sabato 16 alla scadenza di quello attuale, prevedono anche una zona bianca dove gli indici di contagio sono quasi azzerati, una sorta di ritorno alla quasi normalità, con il mantenimento però del divieto di assembramento e rispetto del distanziamento sociale. Il governo vorrebbe inoltre introdurre nel DPCM il divieto per i bar di vendere cibi e bevande da sport dopo le 18. Sarebbero poi confermati per tutte le zone il limite di due persone per andare a trovare a casa parenti e amici e lo stoppa la mobilità tra le regioni, anche tra quelle gialle. Da parte dei presidenti è invece arrivata al governo la richiesta di ristori certi per le attività che rimarranno chiuse. Da parte sua Lanci, tramite il presidente Antonio De Caro, ha chiesto riconoscimento di un ristoro per far fronte ai mancati ricavi per le aziende che gestiscono i trasporti pubblici, urbani ed extraurbani, che hanno messo e metteranno in campo servizi aggiuntivi per gli studenti. La situazione epidemiologica non è da sottovalutare, l'epidemia è ancora molto forte e per questo, ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, servono ancora restrizioni ai comportamenti corretti. Domani sarà al Parlamento esprimersi, mentre le regioni sono state convocate nuovamente per giovedì. Entro venerdì sarà quindi pronto un testo definitivo.